Non possiamo negare che nella famiglia di oggi non sono favoriti momenti di raccoglimento, di preghiera. Ciò dipende dalla mancanza di formazione e da scelte mancate fin dal tempo del fidanzamento. Se facciamo un paragone con la famiglia dei secoli scorsi, dove non vi erano tante distrazioni, specialmente nelle ore buie della giornata, la famiglia si riuniva intorno al focolare e lì si concentrava o con delle preghiere o con il rosario, con delle riflessioni o affrontando il problema della famiglia. Oggi questa situazione è cambiata e quindi basterebbe fare un confronto tra il tempo dedicato agli ascolti televisivi, oggi la televisione comanda, e il tempo dedicato alla preghiera. Giuseppe e Maria sono la coppia orante che accetta alla volontà di Dio anche quando non la comprendono. Giuseppe prega, campiando le sue decisioni per uniformarle al progetto di Dio in seguito all'avvertimento dell'angelo. Maria prega con un molosilloba, sì, e si abbandona alla volontà di Dio e riesce a non temere. Quando parliamo di Padre Pio facilmente mettiamo l'accento sui fenomeni mistici e anche sull'impegno sacerdotale. Invece è bene riflettere che nonostante i tanti impegni sul tempo riservato, lo impegnavano anche nelle relazioni con i suoi amici. Quanto magari d'estate a una cert'ora Padre Pio senteva nell'orto e insieme agli amici si tratteneva. Si potrebbe pensare ma perdeva tempo, non poteva stare in coro a pregare eccetera. Quello stare con gli amici per Padre Pio era una forma di preghiera. Si parlava di tutto, della politica, la cronica del giorno, alle barzellette. Era un modo di vivere l'amore nella famiglia con i suoi frati e gli amici. Fortezza e amore sono il DNA del bravo genitore che deve preoccuparsi della formazione del carattere. riscoprendo le piccole virtù, i fioretti e le altre attività che della preghiera e di offerta. Il carattere si forma con i piccoli gesti. Una volta noi siamo cresciuti in questo modo, con le piccole virtù. Il ragazzo diventerà uomo solo se avrà fatto l'esperienza del silenzio, del dolore, del sacrificio, della gioia nell'amore di Dio e nell'amore dei fratelli. Grazie a tutti.